è falso che le mamme miopi non possono allattare infatti una delle più comuni credenze è proprio quella che l'allattamento possa comportare un aggravamento della miopia inoltre è anche priva di fondamento la convinzione che ci sia un peggioramento della vista causata dallo sforzo espulsivo durante il parto per cui è tutto falso non esiste alcuna evidenza scientifica che la miopia sia gravi in conseguenza dell'allattamento al seno